Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Infipili per lavori di miglioramento della sicurezza, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni, è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo dal Livorno. Si ricorda che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Restano validi i percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Sempre in Fipili per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Raccordo sia una Firenze chiuso per Frana, tra Bargino e San Casciano verso Firenze. Altri aggiornamenti sui danni provocati dal maltempo sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!